Ok, dirò a Mason e Woods che siamo pronti. Saranno loro a gestire la cosa. Sappiamo che Aldrich sta per muoversi dal Colorado verso il nord del New Mexico. Qui intercetteremo la sua carovana. Non esiste che un ex agente CIA gestisca la rete di spie di Perseus. Uccidiamo quello strozzo. Incredibile che Aldrich abbia tradito la CIA. Ha tradito tutto il paese. Phoenix 24 parla Phoenix 21. 30 secondi. Siamo Mason. Sono pronto. Bersagli più avanti. Redo al comando. Gli strozzi pensano di potersi nascondere. Andiamo gli USA. Luce. Aldrich è in uno di quei furgoni. Colpiremo forte. Attenzione ai fuggitivi. Toglieremo la strada al furgone di testa. 2-1. Fornisci copertura. Andiamo. 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 Anche i fuggitivi. Buonasera buonasera bella gente. Buon martedì è benvenuto in questa bella puntata dello Zurold con i caro Call of Duty. Ragazzi sarà una live breve probabilmente, quindi potrei stare tra le 11 e le 11 e un quarto. Prima di iniziare questa live vi ricordo che stasera non sono in sole, c'è tanta altra bella gente simpatica che abbiamo in live soprattutto. Abbiamo il mio compagno e avventura Fabio Decax che sta a portare l'ultimo capitolo della trilogia di Dark Pickles. Poi abbiamo il nostro dedo, la sala giochi, Muraco e Passione, Dara, Toro, Roger Steel, Lo Tirano, Shigigami, Mr.Bot. La Pippi, Lo Tirano, Il Coronnello, Ellie, Lucio che stanno giocando insieme. Ijima, Gruppolet Play, Mitico, Bike, Bart, Hele, Tequercio, XMI e il nostro Black Jackar. Non fermiamoci! Non fermiamoci! No! Via, via, avanti! Non fermiamoci! Altre e Guerzo avanti. 움.. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 2-1, stiamo salendo. Ricevuto. Ci vediamo dopo per l'estrazione. Aldrich è alle strette. Avanti, Mason. Il posto è questo. Finisci questo pezzo di merda. È morto. Mason, facciamo una foto ad Aldrich. Per l'album di famiglia della CIA. Sezione traditori. Sai, quella peggiore. Speravo di non eliminarlo. Sono sotto fuoco pesante. Mi scaccio. Sono sotto fuoco pesante. Mi scaccio. Granata in arrivo. Granata in arrivo. Di carico. Di carico. Di carico. beccato